Questa che via è, via Campania 47, dove c'è il tribunale che deve esaminare. Ma che ci stiamo a fare qua? Perché noi siamo ancora? Lo dite perché siamo ancora? Per colpa di chi siamo ancora? Dice per colpa di Zampalini, però Zampalini al frattempo viene assolto. Allora la colpa di chi è? Perché hanno subito questi signori del palazzo, hanno subito, ci hanno tolto subito, possibilità di appello, di contrappello. I play-out non l'hanno fatto più, il Palermo ha detto c'è. Perché tutte queste cadognate contro i tifosi e contro la città di Palermo? Vorrei capire perché. Che a Zampalini non c'entra più niente, almeno credo. Che si aspetta da queste udienze? Ormai i play-off non li possono fare più, non si possono fare perché già sono partiti. È un miracolo, non lo so. Ma se andrà avanti a carte bollate, ragazzi. Se andrà avanti ad oltranza, a bloccarmi i campionati. Se il Palermo ha ragione si blocca tutto. Mi aspetto che quantomeno ci diano la Serie B, non ci diano la Serie C. Perché magari se ci danno 20-25 punti di penalità, li scontiamo adesso perché non facciamo i pre-off. E quindi, di cominciamo il prossimo anno. La picchia siamo qui.